Hong Kong, siamo alle Village in zona podio, come potete vedere il nostro operatore Daniele Drago sta riprendendo in questo momento il podio dove ci sarà la premiazione e attorno chiaramente tutti i palazzi tipici della Baia di Hong Kong, in una giornata dove ci sono molte nuvole, dove c'è stato qualche acquazzone e dietro di me vedete dei particolari palazzi, una delle entrate delle Village e ancora dietro di me la zona della BMW dove è esposta la vettura di Antonio Feliz da Costa e anche la Safety Car e così finiamo questo giro a 360 gradi qui alle Village di questo Hong Kong e Pri di formulare la cinquantesima gara della storia di questa categoria di monoposto elettriche